Parte sotto il segno dei grandi numeri la preparazione della 36esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto che si terrà sabato 7 giugno alle 20.30 allo stadio Elvia Recina di Macerata. Sono infatti oltre 3.000 volontari coinvolti per garantire il buon andamento dei numerosi servizi offerti. Se nella segreteria sono impegnate ben 300 persone, infatti nel servizio accoglienza è stata toccata quota 800 con giovani provenienti, oltre che dalle marche anche d'Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. Più di 100 le persone impiegate nel coro, 150 nel servizio liturgico, 100 per l'allestimento stadio e ben 500 volontari tra personale medico e paramedico, tra cui 50 medici, con l'impiego di 60 ambulanze e la presenza di 4 postazioni mediche avanzate, 10 punti di primo intervento e 15 postazioni mobili. In 180 arriveranno poi da Pesaro per curare il servizio di ristoro colazione la mattina, prima di raggiungere Loreto, con la preparazione di 4.000 litri di tè, 3.000 tazzine di caffè, 36.000 merendine, 15.000 bottigliette d'acqua e ben 8 quintali di dolci fatti a mano. Sul fronte delle adesioni al pellegrinaggio, ancora una volta è Milano a fare la parte del Leone. Sono infatti 30 i pullman iscritti alla Macerata Loreto, mentre altri 5 provengono dall'Abrianza. Il nord è rappresentato anche dal Piemonte con Cuneo, dal Triveneto con Trento, Rovigo, varie località del Vicentino, mentre Toscana ed Emilia Romagna sono sempre ben evidenziate con Livorno, Arezzo, Modena e Bologna. Il centro come sempre fa sentire la sua presenza, oltre che con un ottimo contingente di pullman da tutte le marche, anche se sono in molti a muoversi in treno, anche da Lazio, Umbria e Abruzzo, in particolare dall'Aquila e Lanciano. Le adesioni sono arrivate anche dal sud, con Campania e Puglia, ma anche Calabria e Basilicata. Per il prossimo 7 giugno è previsto l'arrivo a Macerata anche di pellegrini dall'estero. Due pullman infatti sono stati prenotati dalla Svizzera, mentre alla sede del comitato organizzatore è arrivata la segnalazione della presenza di otto paraguaiani di Assunzion, che con il pretesto di partecipare ad un matrimonio di una coppia di Amici di Mantova prolungheranno il soggiorno italiano per il pellegrinaggio a piedi.